Una distesa di giovani in festa, sparsi per due chilometri sul lungo fiume Costa Nera. L'ultimo appuntamento di Papa Francesco in Paraguay, prima di far ritorno in Vaticano, è stato con il futuro e la speranza dell'umanità. A questi giovani coraggiosi il Pontificio ha dato alcune preziose indicazioni per il domani, come un padre premuroso e sollecito. Nella vita infatti ciascuno deve scegliere con quale squadra scendere in campo, con Gesù che non presenta una vita da stelle, da celebrità, ma al contrario ci dice che giocare con lui è un invito all'umiltà, all'amore, al servizio verso il prossimo, oppure con il diavolo, un venditore di fumo, la cui strategia è quella della divisione, del competere con gli altri, dello schiacciare il prossimo. La felicità non sta nei vestiti che si indossano, ma nell'essere sensibili, nel saper perdonare gli errori, nell'essere amici con pazienza. Parlando a braccio, Papa Bergoglio ha chiesto ai giovani di avere un cuore libero e non schiavo delle comodità e dei piaceri, di essere capaci di mettersi al servizio degli altri e di pensare a quanti non hanno una vita facile.